Il parlamentare Nicola Provenza sollecita chiarimenti alla regione Campania. Indispensabile garantire l'assistenza sanitaria anche da remoto, garantire continuità per le terapie riabilitative post-covid e in particolare alla riabilitazione respiratoria da remoto. A chiederlo è il parlamentare salernitano del Movimento 5 Stelle Nicola Provenza che sulla vicenda ha avviato una interlocuzione diretta con gli uffici regionali dedicati al fine di ottenere un chiarimento interpretativo relativo a quanto riportato nella deliberazione numero 6 del 12 gennaio scorso emanata dalla regione Campania. In quel documento si fa riferimento alle linee di indirizzo regionali sull'attivazione dei servizi sanitari erogabili a distanza come la telemedicina e sul loro impiego nell'ambito del sistema sanitario regionale campano che pare lasci alle ASL margini applicativi discrezionali. Sembrerebbe infatti che l'azienda sanitaria locale di Salerno non riesca a garantire questo approccio a distanza che risulta più sicuro e efficace sia per gli operatori che per i pazienti. Per questo sono in attesa di un riscontro in tal senso al fine di assicurare ai pazienti interessati un percorso riabilitativo essenziale per un pieno recupero funzionale, ha detto Provenza. Il tema dell'assistenza a distanza attraverso la telemedicina ha visto impegnato il deputato salernitano del Movimento 5 Stelle nell'attività parlamentare nelle varie fasi del periodo emergenziale. La mia attenzione si è rivolta ai servizi da erogare ai pazienti covid senza dimenticare tutti i pazienti cronici e fragili in una visione prospettica di un modello organizzativo di assistenza territoriale.